Il consueto calendario d'autore ma anche un'asta in stile new yorkese all'incanto le gigantografie di Nudi e Crudi, il vecchio calendario è di Ori a Coloni, quello del 2010, al Cucai di Napoli dove sono stati raccolti per l'Unicef migliaia di euro la causa che hanno deciso di sposare quest'anno e quella dei bambini vittime dell'ultimo tsunami. Intanto al Cucai, Vede Cesare, i midi del calendario 2011 con i 12 scatti fotografati da Sergio Guglia, racchiusi in sciodò letteralmente arte della scrittura, il nero fa da sfondo a 9 modelli in posa creativa. Natale e la tecnologia, Salerno, nuova iniziativa della diocese.